Allora benvenuti, vediamo come eliminare questo fastidioso effetto riflessivo che vedete dagli oggetti importati da Blender questo qui è un semplice cubo che ho fatto con Blender, vedete questo oggetto che è un cubo molto semplice in questo cubo mi sono solo limitato a metterci il colore, quindi l'ho fatto di colore verde dopodiché l'ho esportato con un export GLTF vedendo qua la cosa che magari non si vede chiaramente subito però a volte mi può capitare che sotto determinate condizioni come in questo caso con un sfondo abbastanza luminoso si possono evidenziare dei riflessi di questo tipo che non è detto che siano benvenuti allora il motivo per cui capita questo è che una volta importato il punto GLB in questo caso piuttosto che il DAE vengono estratte tutti i materiali e tutti i materiali come vedete li vediamo da qua material.material, hanno tutti un suffisso .material e poi andando a vederli sulla destra qui ci sono tutte le loro caratteristiche quindi io consiglio di espandere tutte le proprietà e poi se non si trovano facilmente le proprietà le si possono filtrare, quello che ci interessa noi sono la specular ecco la specular vedete che in questo caso l'ho messa 1 per esagerare ma il default è che lui lo mette a un valore default che era 0,5 vedete che il valore default è 0,5 comunque il problema continua a vedersi e un'altra cosa che impatta i riflessi è la rugosità vediamo il valore default della rugosità è 1 e in questo caso probabilmente, adesso sto usando il Godot 3.1 ufficiale il valore di rugosità 1 è abbastanza buono nel senso che vedete che non si vedono riflessi ma forse nella versione precedente c'era un valore di rugosità che era un po' più basso, vedete che basta in realtà poco quando il valore di rugosità va a 0 comincia a emettere questo effetto allora come fare per modificare i materiali in questo senso uno per ciascuno, lo vedete qua, nel senso che ho preso il allora facciamo il default che è 0,1 di roughness e di specularity specularity 0,5 quindi lo abbiamo messo a un valore di default che non va bene e l'alternativa è se avete comunque centinaia di materiali e di usare uno script e ve lo faccio vedere magari in un video successivo ora, nel prossimo video vi farò di nuovo vedere questo semplice import di un cubo in formato glb con l'aggiunta dell'animation in modo tale da darvi di nuovo le basi per l'export e import sia di una immagine di sfondo come in questo caso gli ho messo uno sfondo molto semplice che fare la rotazione che controllare il materiale nello specifico quindi questa è la base del tutto è la base del tutto è la base del tutto